Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 4 di Paperino, Operazione Papero, sempre con la mia ragazza. Ciao a tutti. Allora, la scorsa volta ho detto che era la parte finale, però ho notato che per il punto c'è la quinta isola, però se noi andiamo nell'isola di Merlock adesso, perché ci deve essere una quinta isola? Se qua c'è Merlock in teoria, quindi ci sarà un altro boss. Iniziamo l'isola e lo scopriamo in questo episodio. Cominciamo dal primo. Il primo si chiama l'entrata del tempio. E' il tempio di Merlock, non lo so, ma lo scopriremo soltanto vivendo e andando avanti. Che ci puoi fare? Subito un pacchetto regalo, quindi dice prendi il pacchetto regalo perché è difficile sto gioco. Minchia, già cominciamo male? Direi molto male. Però io riesco, me la cavo bene, devo dire. No, quella parte l'ho superata dall'inizio, solo che dopo ci sono le molle. Perché se non ti salta, non ti salta. Eh, eh, non faccio. Infatti sono caduta. Ma lo sai perché? Perché non devi saltare, non devi premere due volte la X, perché dal primo tempo lo fa già fare il trambolino. Quindi una volta che salti col trambolino devi andare in avanti e poi premere X. Eh, ma ci ho provato pure, ma ci vanno di soltanto a quel caso. Ma a me va così, ma a me va così, vai tranquillo. Ah, da me è caduto come se non ce la faccia essa, a stare nell'equilibrio. Ok. Ma il checkpoint dov'è? Uh. Checkpoint? Sì, vabbè, per un momento ti fa girare. Ma va che schifo sto livello. Avevo superato quella parte che dopo. Che stai facendo? Mamma mia, mamma mia, è perché è difficile. Calmati, paperino, calmati. Sì, vabbè, ma cadono quelle cose dove ci fanno sopra. Eh, lo so, non ne ho aspettato. Non rendo possibile pure per il nächst nível livello. Iii! No vabbè... che figlio di puttana sto gioco. Dai un altro checkpoint, dai! Gravo, gioco. Vedi che quanto vuoi stai ad essere un amore. Quanto vuoi, però? No, vabbè, sono caduto. Che stai facendo? No, non ci posso credere. Ma vuoi un giocapone? Dov'è un giocapone? Dai! Non lo so. Devi scoprire la tua. Mettere quello che mi muore. Un giocapone? Io ho il terzo che prendo. No, ma io sono in forma. La Red Bull ha fatto effetto. Bravo, vuoi bene. Tu vuoi un euro? Perché non ci riesci. Vuoi un euro, tu potete. Guarda come sono bravo quelli picchi di picchi, va. Toffete! Come cazzo ha fatto accadere? Ma me la devi spiegare. Ma la devi spiegare come ha fatto accadere. E finisce il livello, ragazzi! Con un record di 2 minuti e 18! Mamma che cosa sono io! Che cosa sono io! 16.350 punti, più una vita extra. Grazie. Ok. Bene! E ora è... Ok, continuiamo con il secondo livello. Il cammino degli oggetti. Andiamo? Sì, sì. Il cammino degli oggetti. In che senso? Gli oggetti che camminano. A me sembra uguale a quello al primo. Però comunque si sente la difficoltà. Sono tutti uguali. Quest'isola siamo arrivati veramente alla vera difficoltà del gioco. L'isola è Fela, quindi più o meno sono tutti uguali. Ciao. Sì, guarda, c'è la porta che ti schiaccia. Eh, sì. Qual è? No, sono caduto sotto! E che cazzo ne sapevo io che c'era il buco? Madonna, qua ci sono buchi dappertutto. Bisogna arrivare al checkpoint? Io no. Sì che ci sono, tra una cosa all'altro. Sì, ma butto, dove le mettono le vite? Il checkpoint trovato? Ma tanto io ne ho 21 di vite, sinceramente. Sai quanto me ne fotte? Secondo checkpoint? Quindi c'ha. Vabbè, non è difficile, devo dire la verità. Finora. No, vabbè, guarda, come si fa qua della porta? No, qua non si vedeva. Il nero. Mamma mia, che stavo cadendo. Checkpoint. Minchia, dove era lontano il checkpoint, però... Proprio ne ha presa in culo questa. Quando le faccio così, mi spanto tutte. Però il prossimo checkpoint, l'hai presa già? Sì, ora, proprio ora. Oddio, ma... È lontano, io sopporto ma quei tre pupazzetti. No, no, è più avanti quello che ho preso io. Ma mettiamo già come continuare. No, vabbè, ma come cazzo fa a cadere? Che l'ho preso e ti regalo. Oh, Cristo santo, però, dai, non è possibile. Che gioco di merda, guarda. La verne, perché poi alla fine del livello ti da una o due vite, dipende da qualsiasi gioco che hai fatto. Ho finito. L'hai completato? Sì. Checkpoint. Sì, vabbè, guarda qua, come si fa questo? Praticamente devi aspettare che il primo è quasi chiudito. No, calma. Fai il proprio salto per un'altra vita e salto sull'altra. Ma perché la vita mi fa ribalzare la vita? No, se tu fai il doppio salto, poi salta di nuovo e poi su quell'altro che nel frattempo si apre, subito salti verso là. Vedi che poi c'è la cosa scura, comunque non si vede. Ma è come una mezzola. Sì, sono fatto, fatto. Guarda che non l'ho visto, mi ha avuto l'angelo, poi dopo. Sì, vabbè, guarda qua che visuale. La visuale dei porci è questa. Vabbè, non si rompe subito, basta saltare nel giusto tempismo, finito. Stavolta mi hai fottuto, sono riuscito a farlo prima di me. Non sei morta ancora una volta, posso? Sono morta... Una volta, no, io due volte, due o tre volte. Sono morta solo una volta dopo il secondo checkpoint. Non sei stata più trova di me qua, dai. 11.450 punti mi ha dato una vita, poi. Io 19.000 l'ho fatta. Comunque alla fine le vite si recuperano, dai. Si chiama l'antico destino. Il destino... Ma perché il destino è sia antico che è moderno, non lo capita sta cosa. È il laterale, io li odio quelli laterali, non mi piacciono. Sì, vabbè, vada qua. Si divertono qua, eh. Oddio, vada. Cioè, non sembra difficile, mi ho caduto da qualche fa e lo sapevo. Lo sapevo che c'è la cosa. No, ecco, ho detto non sembra difficile, mi è caduta la cosa attosso. Ecco fatto. E' pure la lava che cade. Mancava. Il ponte che cade, tutto che cade, vai così, baby. Però, però la fine, questi fuochi li hanno messi molto di merda perché sono facilmente saltabili, questi fuochi che lancia perché basta che tu salti, fai il doppio salto e non ti prendi. No, no, quanti di questi uccidi che ci sono? No, 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 non ci posso credere. Mi ha colpito una cosa di fuoco. Di nuovo da capo. Ma io ho preso il check coin. Si, vada qua. Sono malati. Aspetta, scaldate, non così? Comunque ci sono dei metri per fare dei salti molto più alti, ho notato. Aspetta che salti sulle cose, cioè sulle oggetti ti passa sempre più alti. Check point, bitch. Eh, questa volta non finisci il premato l'uno. No, ma devo dire che all'inizio mi sembrava difficile, ma mo' devo dire che l'unico difficile a me mi è sembrato il primo era quello, però devo dire che il secondo e il terzo rispetto al primo sono più facili. Anzi, questo qua mi sembra anche più facile del secondo, ti dico la verità. E ora dove cazzo vado qua? No, ho capito già tutto. Ecco! Mamma mia, ma mo' però la fine è veramente particolare, eh. Mi stavo per schiacciare. Guarda, quando arriva la fine dici, mi chiede, è possibile che devo fare lo sla, cioè devo saltare le tre tre cose. Praticamente devi salire tra destra e sinistra tramite quei cose che si apre e si chiudono con le spine, hai visto? Ma no. No, no. Ah, ecco adesso. Ecco. Si, da qua! E non mi dai un jackpot? Mamma mia! Che livello di merda! No, alla fine è difficile, ma ti dico solo questo. Sai, non me lo dire però, mi metti ansia. Non ti preoccupare. Meglio a te che a me. No, guarda, come hai parlato a me? La cosa che mi piace è quando il paperino è incazzato, che tipo lo colpiscono, diventa immortale come la maschera di Crash e puoi colpire tutti. Per qualche seconda. Di nuovo da qua devo ripartire, mi dobbiamo. Eh, ti ho detto il secondo checkpoint, giusto? Sì, quello dove ci sono quelle rette, la. Lascia stare in Amadona, lascia stare. No, non va. No, è difficile. Diciamo che hanno fatto una bella cosa. Non ho fatto un livello, ma qua se non mi metto un checkpoint di sclero. Ancora non c'è un testo checkpoint. No. No, più avanti si, dove sei tu si. No, se non mi già mi stavo ammazzando. Dammi un checkpoint, ti prego. Ma vuoi che succede, guarda? Ma comunque stai, sto arrivando davanti. Non si possono mettere i livelli così. Per mo? Vabbè voglio. Ho finito! Sì! È stato difficile. Magari non mi fai passare a finirlo. Ma come fa? Ma poi c'ho l'aranciata. Perché perde? Ho fatto pure schifo. Perché vai nel fuoco forse? Ho fatto pure schifo. Ok ragazzi siamo nel livello 4 e poi finalmente possiamo affrontare il boss. Forse Merlock, forse non si sa. Se questa avventura è finita o non è finita. Non ricordo un cazzo. Anche perché qui fin da quando ci sono... Non è strana sensazione. Non ci fui mai arrivato. Il sentiero della testa. E allora è la testa che ci insegue adesso dai. Non c'è più la mano. Come la testa? È la mano. No è il sentiero della testa. Siiii ci inseguono. Vai iniziamo. Ma tutti li vedi sono con la mano. No è vabbè. No è la c'è la mano. C'è la mano. Però ci insegue. Eh, eh come va. Ma ci sono già giù la mano. Dai. Abbiamo 21 vite. Ce la faremo? Già sono caduta io. Già se vuoi una bella notizia sono caduta. Pure io? Ho già fallito. Questa missione secondo me non ci riesco. Sono ricaduta di nuovo. Semmai verso il punto. No vabbè ma vada che hanno messo. No ma fresa. Ma è difficile. Questa è una roba atroce. Se non metto un checkpoint veloce non ce la faccio a farlo questa. Un checkpoint. L'ho arrivata io. Ma non c'è checkpoint a me. Sì ce l'ho preso adesso. Sì hai preso. Minchia come va. Come va brutto il livello. Mi stanno suonando le mani. Non so. Ma diciamo che non è difficilissimo. Se erano più difficili gli altri. Ma faccio il cazzo che non è difficile. Io. Io non. Cioè non. Solamente quelle due volte all'inizio sono caduto e basta. Non mi nemmeno ho mai toccato. No. Solo che ci sono queste palle di fuoco che ti colpiscono. Ma questo c'è. Ah ma non ti lo puoi credere mai. Sono caduto e ho preso il checkpoint per fortuna. E non riparto dall'inizio. Ma c'è un altro. C'è un altro. Sì sì. C'è un altro. C'è un altro. C'è un altro. Sì sì. 11.150 punti. Una vita extra. Beh vita qua ce ne andate parecchie comunque. Finito. Oh è stato più facile di tutti gli altri comunque. A parte di scherzi. Però rispetto all'altro. Allora rispetto alle altre mano è più cerchio. Ma che cazzo di masse sono. Boss andiamo al boss subito. Non ci perdiamo tempo. Vediamo chi ci aspetta. Vediamo che bevo un po' di cioccolata calda. Beh comunque ci sono due finali amo eh. In questo gioco. Ho scoperto. Quindi mi sa che. No è Merlock amo. Oddio. Oddio. 路. Gastone. Oddio. C'è questa cosa? Abbiamo salvato Zio Paperone però. Oddio come si fa? Ma già è iniziato? No, ci hai filmato. No, come si fa perché questo cuore andrà a piattaforma di sotto? Beh, già mi sto immaginando. Io ho capito com'è. Eh, tipo, te lo ricordi come quello di Crash Bash? Come Crash Bash? Tipo, devi colfirlo... Eh, tipo, c'è lui, grande, devi lanciare qualcosa. Eh, va buono. Eh, tu devi ogni volta per colpire, devo fare tutto sto casino io? Cioè? Cioè, quello ogni volta cambia. Ma caccato la minchia, cioè... Sì, non è sempre lo stesso. Oddio, mamma mia. Ti butto a fuoco da un lato, le cose dall'altro lato, è impossibile. Eh, ma guarda, solo giusto. No, non è nemmeno questo. Mamma mia, sono caduto, dai. Ho colpito. Manca una volta sola. Io non ci voglio stare fino a domani, però. L'ho ucciso! Già. Che culo! Che culo! Già. Che culo! Piccolo piccolo. Merlock più bambino. Ok, abbiamo posizionato l'ultima, l'ultima antenna. Ora facciamo confluire tutta l'energia. Potenza al massimo! Clean, la macchina è al massimo. A presto, papirino! Papirino! A presto, papirino! Ecco qua, Faberina e Faberino in casa Faberina, sei salva Ah, adesso ho capito ciò che fa questa macchina Fantastico Ehi, magari c'è una monetina Certo che Merlock ha dei gusti un po' bizzarri E una macchina che fa il pop corn al cioccolato Cioè alla fine quella macchina che ha creato il boss Era una macchina che faceva il pop corn al cioccolato Il pop corn al cioccolato No, è incredibile Faberina ha baciato Faberina Grazie per avermi salvata Sei il mio eroe Ah